abbiamo la tv della 501 sono loro che sono in diretta andiamo a stare attenti a un dirello delle parole io sì breve pausa per spostarsi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti questo è il DJ set di Diavolo Bianco fa di tutto pur di non mettersi con la corazza e non soffrire dal caldo come tutti gli altri no no è vero è vero è vero è vero è vero ah a proposito c'è in diretta comunque esatto esatto raccogliamo l'appello se qualcuno vuole portare una birra a Diavolo Bianco sarà benvenuto anche due è vero 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 è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo qui l'amico Leonardo, un ottimo gingiari, un prossimo all'approvazione. E qui c'è l'allestimento. Abbiamo qui l'amico? Abbiamo qui l'amico? Abbiamo qui l'amico? Abbiamo qui l'amico? Buongiorno. Abbiamo qui l'amico? Abbiamo qui l'amico? Abbiamo qui l'amico? ma c'è la superficie, no? è la TATI questo è quello NIDER ehi, in me c'è la TATATI Sì Sì Interbite ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.